Alleluia, sediamo un momento e ce l'allegriamo gli uni gli altri nel vederci, noi ci accogliamo gli uni gli altri come fratelli, figli dell'unico Padre, e non vogliamo considerarci quali siamo come uomini, perché siamo tutti diversi, perché ognuno di noi può fare una valutazione diversa, tu sei quello, tu sei quello, tu sei quello, possiamo anche ricordarci dei difetti, dei pregi, e avere una valutazione diversa gli uni degli altri, potrebbe questo anche ostacolare la nostra comunione, invece dobbiamo riconoscerci secondo lo spirito, non secondo la carne. Ci dice San Paolo, proprio nella lettera ai Corinti, che io neanche Cristo voglio riconoscere secondo la carne, perché ormai siamo creature nuove. Probabilmente Paolo aveva conosciuto, incontrato Cristo, così quando era studente a Gerusalemme, era ospito della sua sorella, poteva avere un quindici anni, per cui dice, se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso io lo conosco secondo la fede, secondo quanto Egli mi ha detto, quando mi ha fatto, è stato com'è. E non dobbiamo riconoscere nessuno secondo la carne, perché siamo creature nuove, nuova generazione, in Cristo Gesù non c'è né uomo né donna, ecco il sesto non conta più, né barbaro né scita né greco, cioè non c'è una nazione diversa, non c'è piccolo grande, d'oltre ignorante, ma tutti questi valori umani sono superati. Noi siamo tutti membri dell'unico corpo, tutti figli dell'unico Padre, per cui siamo nella nuova generazione, in cui le categorie della vecchia generazione non contano più. Se noi ci guardiamo con questi occhi della fede, e allora tante difficoltà nell'accoglierci, che saranno? Perché ci guardiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. e non conta quello che eravamo, ma quelli che siamo ora, né conta quelli che eravamo ieri, ieri sera, e neanche come eravamo questa mattina, ma quelli che siamo ora davanti a Dio. E allora uniti nell'unica fede, nell'unico amore, accogliamoci gli uni gli altri. E come ci ha detto il Signore nella preghiera, viviamo nel santo timore di Dio, perché questa è la vera saggezza, l'inizio della sapienza e il timore del Signore, che significa che dobbiamo vivere in quell'amore a Dio, che temiamo di offenderlo con i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri comportamenti, non perché abbiamo paura di Lui, ma abbiamo tanta differenza, tanto amore verso di Lui, che non vogliamo offenderlo in nessuna cosa, camminare umilmente con il nostro Dio. Michele diceva ti insegno a un uomo quello che il Signore esige da te, praticare ciò che è giusto, vivere nella pietà davanti a Dio, cioè nella preghiera, nella forte filiale, e camminare umilmente con il suo Dio. il Signore ci raccomandava di essere umili, perché l'umile piace a Dio e piace agli uomini. Con l'umiltà non si sbaglia mai, chi è umile non sbaglia mai, per cui la prima grande saggezza è essere umili, riconoscerci nulla, riconoscere i nostri limiti davanti a Dio e rispettarci gli uni gli altri, ecco la giustizia, e poi essere tutti dediti alla preghiera, ecco la giustizia. rispetto verso gli altri, amore verso Dio, umiltà nei nostri riguardi. Ed è così che noi siamo saggi, questa terra e chiediamo al Signore questa saggezza, questa sapienza, questa umiltà, perché è in questo atteggiamento che fiorisce la lode. Il Signore viene rodato da un popolo umile, il Signore sta con gli umili, non sta con i superbi. E allora, fratelli e sorelle, noi ci accogliamo gli uni gli altri con tanta gioia, perché la nostra è una riunione di gioia, ci ritroviamo fratelli, per cui accogliamoci gli uni gli altri con grande amore e poi lo diamo il Signore, l'unico Signore. Questo è il momento di riconoscerci e poi di rodare il Signore. Mentre noi lo lodiamo, il Signore ci purifica dei nostri peccati. E allora, se ci alziamo, noi possiamo darci la mano e riconoscerci, fratelli, fratelli in Cristo, figli dell'unico Padre, ma con grande gioia, e dobbiamo guardarci negli occhi, cioè, non è un rito soltanto, ma è rivivere, rivivere, una realtà in cui ci troviamo per Gesù. E allora guardiamoci gli uni gli altri con amore e accogliamoci gli uni gli altri. dice il Signore in Romani accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi. Gesù ci ha accolti in sé, ci accoglie in sé, accogliamoci noi gli uni gli altri con amore. Il Regno dei Cieli è simile a un uomo il quale chiamò al banchetto di notte per il suo figlio tanti invitati. Il Re mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma quelli non volevano venire. E di nuovo mandò altri servi a dire ecco ho preparato il mio pranzo, i miei uoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutti pronti venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo chi ha i propri affari ha poi preso i suoi servi li insultarono li uccisero. Allora il Re si disegnò e disse ai suoi servi il banchetto non c'era pronto ma gli invitati non erano degni andatore ai crocisti delle strade e tutti quelli che troverete chiamatele alle nozze uscite nelle strade che serve raccolti da quanti ne trovarono buoni e cattivi e la sala si riempì di commentali. Grazie Signore perché Tu ci hai riuniti qui ci hai chiamati e adesso la sala di nozze è piena di commentali Signore siamo quelli che veniamo dai crocisti dalle strade dai campi dalle situazioni nostre Tu ci hai chiamati così come eravamo e ci hai invitato alle nozze del Tuo Figlio i primi invitati non erano degni neanche noi eravamo degni però Tu ci hai invitati ugualmente e ci hai dato la veste inuziale per sedere accanto a Te e accanto agli altri al banchetto di nozze ti ringraziamo Signore questa sera che siamo a questo banchetto di nozze in cui tu ci dai a mangiare la Tua parola in cui poi noi celebraremo le nozze del Tuo Figlio nella carne e nel sangue l'ode e gloria a Te Signore Signore un canto nuovo l'oda a Lui fino all'estremità della terra lo celebra il mare con quanto essa contiene le isole con i loro abitanti esulti il deserto con le sue città esulti nei villaggi dove abitano verde di cadare lo acclamano gli abitanti di Seir dalla cima dei monti alzino frida viena gloria al Signore e il Sonore divulgono nelle isole il Signore è grande il Signore è grande tra tutti i dèi ed egli dice farò camminare i ciechi per vie che non conoscono io li guiderò per sentieri sconosciuti io trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e noi aspri in pianura tale cose io ho fatto e non ci sarò di farle grazie Signore Signore noi cantiamo a Te e leggiamo a Te mentre Tu trasformi la nostra vita apri Signore gli occhi ai ciechi apri le orecchie ai sordi raddrizzai le gambe degli sorsi riassa chiunque è caduto perché tutti possiamo camminare con Te e possiamo battere le vie che Tu batti Tu ci condurrai nella Tua Patria Signore noi vogliamo camminare cantando inecciando a Te perché Tu sei il Signore il nostro Redentore gloria e gloria a Te Signore io ho radunato per stare insieme per guardarvi giù degli altri e amarvi per ascoltare per ascoltare la mia voce per questo siete qui vi radunati e adesso amatevi gli uni gli altri e cantate al vostro Dio Dio Signore tu ci hai adunati per stare con Te e stare tra di noi per ascoltare la Tua voce e per amarsi gli uni gli altri oh Gesù ti ringraziamo di questa parola che tu ci hai dato lode e gloria a Te o Signore ti odiamo Padre e ci benediciamo perché stasera abbiamo questo amore di Gesù in noi lodiamo sarete tutti insieme facciamo una lode per vedere i commentali escolti un tale che non indossava l'abito russiale di Gesù amico come hai potuto entrare qui senza abito russiale ed egli ha muto lì oh Signore tu ci inviti a vestire tutti qui l'abito russiale l'abito bello l'abito per stare insieme con gli altri e stare con Te e per questo che in un testo che c'è stato indicato dell'Evitico si dice osservate le mie regge e mettetele in pratica io sono il Signore che vi vuole fare santo oh Signore tu vuoi che stando qui noi noi ci comportiamo da santi perché tu sei santo tu vuoi che indossiamo tutti l'abito russiale per stare bene con gli altri alle nostre ti chiediamo oh Signore di donarci quest'abito russiale e se c'è qualcuno che non ha quest'abito russiale Signore dà a tutti l'abito russiale della grazia perché tutti possiamo gioire gli uni con gli altri e dà oh Signore a tutti la grazia di osservare i tuoi comandamenti soprattutto i comandamenti dell'amore perché tu sei santo e ci vuoi santi gloria e gloria a te oh Signore gloria e gloria a te e di essere buoni e santi il stesso è questo il Signore si è legato a voi e vi ha scelto non perché siete più numerosi degli altri popoli ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri il Signore vi ha fatto uscire con mano potente da Egitto vi ha liberato dalla condizione servile dalla mano del farone dell'Egitto e allora riconoscete dunque che il Signore è vostro Dio il Dio fedele che mantiene la sua alianza e benevolenza per mille generazioni oh Signore noi ti benediciamo perché tu sei scelta tra tante tu hai mandato i tuoi servini crocicchie delle strade delle nostre case ci hai radunati qui come nella parabola delle nostre e hai fatto di noi un popolo tuo il tuo popolo tu ci hai scelto non perché eravamo migliori degli altri ma per tua volontà misteriosa ti hai messo così ti hai ammesso al grande convito al convito delle nostre ti hai fatto gustare la tua parola e adesso ci inviti a mangiare la carne del tuo figlio Gesù per essere rinvigoriti e per diventare tuoi perché mangiando il corpo e il sangue di Cristo diventiamo una sola cosa con lui e con te e diventiamo una cosa sola tra di noi oh Signore ti ringraziamo di questo mistero di amore ti ringraziamo di questa chiamata lode e gloria a te dal Vangelo secondo Luca un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro quando pregate dice Padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno datti ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonati i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non si indurre in tentazione parola del Signore e non accenno a Giona le due letture che il Signore ti mette davanti questa sera insegnaci a pregare dicono gli apostoli al Signore certamente lo avevano visto pregare tante volte perché Gesù pregava 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 di giorno ma soprattutto pregava di notte lo avevano sorpreso in preghiera come ci dice Marco nel primo capitolo dopo la guarigione pregare di pregare lui la notte va e il mattino lo trovano in preghiera e dice Luca che passava le notte nella preghiera al Signore per cui Gesù era un uomo di preghiera come un buon ebreo pregava perlomeno tre volte al giorno portava la tallit cioè il mantello della preghiera quando pregava come un buon ebreo ogni mattina recitava l'allel il piccolo e il grande allel come ogni buon israelita però c'era qualche cosa che sfuggiva agli apostoli i quali avevano saputo che anche Giovanni ai suoi discepoli aveva insegnato una preghiera insegnaci a pregare Gesù non dà una formula di preghiera precisa Luca ci dà una formula breve Matteo una formula più lunga segno che Gesù si sta ai contenuti essenziali della preghiera ma non ha una formula vista nella preghiera per insegnarci che sono i contenuti che contano non è la forma che conta è un insegnamento per noi che annettiamo qualche volta un po' magicamente annettiamo forza alla preghiera nella sua forma nella sua forma nelle sue modalità di tempo e di luogo così che la forma e la modalità di tempo e di luogo siano determinanti e di ottenere l'effetto per cui preghiamo Gesù va al contenuto e va allo spirito Padre nostro ecco il Signore vuole che preghiamo insieme la preghiera non è mai solitaria anche quando noi lo preghiamo per conto nostro per i nostri bisogni la preghiera è comunitaria perché Dio è padre di tutti e tutti abbiamo bisogno ed è sempre bene inserire il bisogno individuale particolare nella impetrazione per tutti oci dobbiamo intercedere per tutti impetrare per tutti il nostro Dio è il Dio di tutti è il Dio nostro e la Santa Madre Chiesa ce ne dava un esempio nelle sue formule liturgiche è sempre comunitaria la preghiera e viene conclusa quando è rivolta al Padre oggi sempre per il Signore nostro Gesù Cristo ecco Gesù è il Signore nostro Diciamo Dio Gesù tuo figlio è nostro è per lui che noi ti chiediamo nella preghiera è sempre Cristo che prega anche questo è bene che noi lo comprendiamo non siamo noi a pregare ma è Cristo che prega in noi e il suo spirito che prega in noi ed è qui che differisce la preghiera cristiana da qualunque altra preghiera una preghiera mettiamo di un monaco tibetano un monaco budista di un sofista musulmano può essere grande bella la preghiera di uno del bacti può essere piena di amore può essere piena di sentieri belli ma la preghiera del cristiano è la preghiera di Cristo nel cristiano è la preghiera filiale fatta nello spirito di Cristo per cui sorpassa qualunque altra preghiera non è la formula che conta quanto lo spirito che conta noi ci uniamo a Cristo o meglio Cristo che ripeti in noi unico mediatore la preghiera è il suo spirito che prega noi e allora ecco che il Signore vuole che noi preghiamo nel suo santo spirito ci dice Giuda apostolo Giuda pregate mediante lo spirito e lo spirito santo e qual è il contenuto della preghiera ecco San Luca è più breve ma è contenuto essenziale ci dice che innanzitutto dobbiamo domandare alla gloria del Padre il regno di Dio la volontà di Dio così che noi ci sintonizziamo con Cristo che cerca la gloria del Padre siamo stati creati per la gloria di Dio e la prima domanda che facciamo è di essere trovati nella volontà di Dio e che il regno di Dio si veridichi dentro di noi e attorno a noi perché noi cerchiamo la gloria del Signore siamo stati creati per la lode di Dio l'uomo è stato creato per conoscere amare e lodare Dio il più grande servizio che possiamo rendere al Signore è lodarlo noi siamo i lodatori di Dio e lo siamo in Cristo Gesù che lode della sua gloria noi ci investiamo in Lui ecco l'artezza la grandezza la forza della preghiera e poi chiediamo per noi cose chiediamo per noi il pane quotidiano le cose il pane quotidiano la remissione dei peccati e sostegna la tentazione le tre cose più importanti per noi il pane quotidiano perché dobbiamo riconoscere che tutto ci viene da Dio ed è a Dio che dobbiamo rivolgere gli occhi quando abbiamo bisogno ma sempre abbiamo bisogno di Lui la domanda centrale che poi viene ripresa nel perdono che dobbiamo dare e il perdono dei peccati perdonaci i nostri peccati perché Dio deve perdonarsi perché noi già abbiamo perdonato ad ogni nostro debitore cioè noi motiviamo la richiesta del perdono di Dio dal fatto che noi abbiamo perdonato questa parolina perché che è tradotta anche come ha il senso vero qui perché noi abbiamo perdonato anche in Matteo testo greco e questo è il senso perché noi abbiamo perdonato poiché noi abbiamo perdonato siccome noi abbiamo perdonato così anche tu devi perdonarsi per cui il presupposto del perdono di Dio è che noi abbiamo perdonato se noi non perdoniamo non possiamo chiedere al Signore il perdono quante volte la nostra preghiera è falsa e comunque non può arrivare a Dio perché è una preghiera nelle menzogne noi non abbiamo perdonato in fondo al cuore non c'è il perdono completo sincero a tutti quelli che ce ne hanno fatto del male conserviamo il rancore verso gli altri il ricordo del male ricevuto noi non distruggiamo il peccato degli altri verso di noi col perdono noi non dimentichiamo facilmente l'offesa ricevuta non è così il perdono di Dio Dio distrugge noi non distruggiamo noi rimuoviamo accantoniamo non ne parliamo più non ci pensiamo più ma è accantonato il ricordo è accantonato l'offesa in più delle volte tant'è vedo che al momento opportuno la riceviamo la risuscitiamo la riprichiamo ma tu l'anno scorso mi hai fatto questo questo e questo non posso dimenticare quelle che tu mi hai detto quelle che tu mi hai fatto se io ti ho perdonato però e però abbiamo accantonato ma non abbiamo perdonato di cuore ora se Dio dovesse fare come facciamo noi guai per noi se Dio accantone i peccati e si muove per un momento e poi c'è di carica addosso noi siamo rovinati e allora noi dobbiamo perdonare come Dio perdona per cui cerchiamo di essere veritieri con Dio quando preghiamo perdona Signore i peccati perdonaci tutti i peccati e dobbiamo chiedere perdono dei peccati di tutti perché tutti formiamo il corpo del Signore tutti dobbiamo essere solidali con gli altri nel chiedere il perdono Signore perdonaci i nostri peccati ottiene la richiesta del perdono per noi mettiamo ma anche il perdono per gli altri il buon Dio dandoci il perdono dei peccati a ciascuno di noi e più procriva a perdonare gli altri perché la preghiera fatta Dio perché perdoni gli altri è una preghiera molto efficace più noi chiediamo di perdonare gli altri più il buon Dio perdona noi e poi ricordiamoci di quello che ho detto è la preghiera di Cristo il meditore della nuova alleanza colui che si è offerto per il nostro riscatto e lui che grida al Padre Padre perdono loro perché non sanno quello che fanno inseriamoci nel perdono di Cristo ma siamo sinceri con Dio sinceri con Dio perdonaci oh Padre perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore Dio perdona sempre siamo noi a non perdonare quando noi ci pentiamo Dio ci perdona quando anche un grande peccatore si pente Dio perdona anzi si va a festa in cielo è la gioia di Dio è la gioia di Dio quando un peccatore si pente quando Dio può farla da Dio quando Gesù può farla da Salvatore allora è la gioia di Gesù è la gioia del Padre guardate che succede a Ninive Giona è uno che ragiona come noi un po' come noi è un giustiziere Dio è stato offeso dei Niniviti Dio deve far cadere la città deve seppellire i Niniviti perché hanno peccato contro di lui e lui grida ancora 40 giorni e Ninive cadrà e poi si mette là su cucutto dalla montagna aspettando così con le mani concerte Dio è di parola deve essere di parola gli aspetti che corre la città debbano tutti morire Dio non la pensa così Dio ha compassione Dio procriva il perdone ecco chi è il nostro Dio come siamo miserabili noi noi peccatori che tante volte si facciamo il giustiziere degli altri invochiamo sempre giustizia 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 anche contro i poveri peccatori anche contro i malfattori anche contro quelli che sono incarcerati giustizia giustizia siamo stati derubati giustizia hanno ammazzato giustizia non la pensa così Gesù chiede perdone Gesù chiede misericordia non chiediamo vendetta chiediamo perdone chiediamo misericordia e non sbagliamo mai non chiediamo giustizia né a dire agli uomini perché il nostro Dio non ci ha insegnato così padre perdono loro perché non sanno perché uomo è quello e uomo sono io come siamo peccatori davanti a te oh padre piangiamo per i peccati degli altri implodiamo misericordia ma non chiediamo mai vendetta la vendetta la vendetta spesa a me vita a me la vendetta così è scritto am am am